Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara, Penne. Questo governo c'è da sei mesi e non ha provveduto a nominare un sottosegretario alla ricostruzione, si è lasciato scadere la titolare dell'USRC e ancora non si provvede a individuare i sostituti alla guida di USRA e USRC. È la fotografia di una percezione totalmente assente da parte di questo esecutivo sulla ricostruzione. Così il presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili, Ance, della provincia dell'Aquila, Adolfo Cicchetti, interviene sulla situazione della governance, cioè dell'amministrazione della ricostruzione, che a quasi dieci anni dal sisma presenta caselle vuote da tempo. Su tutte, la mancata nomina del delegato del governo, il mancato espletamento dei bandi per i nuovi titolari dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Cratere, il cui Interim è a Ragnero Fabrizi, responsabile dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, fino a fine anno, scaduto proprio in questi giorni. Fabrizi, nei giorni scorsi, è stato nominato a capo della struttura tecnica di missione presso Palazzo Chigi, che si occupa della ricostruzione. A ottobre sono stati erogati in tutto oltre 5 milioni di euro per 561 aziende, lo ha dichiarato l'assessore alle politiche agricole della Regione Abruzzo, Dino Pepe, commentando i dati sui decreti di pagamento arrivati da AGEA. Un gran numero di bilaterali, che ho personalmente condotto con tutto lo staff regionale a Roma, ha iniziato a dispiegare il suo effetto, spiega Pepe. Sono state pagate, aggiunge anche la metà delle domande dell'integrato, una misura su cui la Regione Abruzzo ha tanto investito e che ci ha fatto arrivare ad essere tra le prime d'Italia in questo settore, vista la risposta entusiasta delle aziende ai due bandi emanati. Sono inoltre in fase di predisposizione gli anticipi dei pagamenti delle annualità 2018 per le misure agroambientali per circa 4 mila aziende. Ho chiesto con insistenza, ha detto ancora Pepe, un tavolo di confronto continuo tra l'assessore e l'AGEA, unitamente alle organizzazioni professionali. Questo confronto, conclude l'assessore regionale all'agricoltura e ambiente, era necessario per risolvere la grande mole di problemi tecnici che impediva il pagamento delle migliaia di domande delle misure agroambientali. E sono stati emanati i primi bandi alle aziende agricole delle aree e delle cratere negli ultimi terremoti e delle zone colpite dalla neve. Si tratta dei bandi per la misura 4.2, rivolta al sostegno per investimenti a favore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e la misura 4.1, rivolta agli investimenti per le aziende agricole. Entrambi i bandi sono stati emanati con il meccanismo dello sportello che dovrebbe facilitare l'emanazione delle graduatorie e permettere alle aziende di programmare gli investimenti, essendo già previsti momenti di presentazione delle domande di sostegno. E poi partita anche la fase operativa del bando della misura 16.2 sui progetti di macrofiliera della Regione e della 16.4 che finanzierà quelli di microfiliera. L'alleanza tra Conad e il gruppo Finiper trova concretezza nell'operazione di affitto di ramo d'azienda a Conad relativa a sei ipermercati con insegna Iper, 44.083 metri quadri di superficie di vendita lungo la costa adriatica. Conad con le cooperative associate subentrerà nel primo quadrimestre del 2019 nella gestione commerciale degli ipermercati di Ortona, Pescara, Colonnella, Teramo, Civitanova Marche, Macerata, Pesaro e Udine, che nel 2017 hanno sviluppato un fatturato lordo di 250 milioni di euro e usufruirà della competenza tecnica del gruppo Finiper, in particolare nei prodotti freschi e in alcuni comparti del non-food. Gli addetti coinvolti, cioè di tutto ciò che non ha a che fare con il cibo, gli addetti coinvolti nell'operazione sono oltre 1.100. L'autorità garante della concorrenza del mercato ha dato il suo senso all'operazione. Una giovane lupa è stata investita da un'auto e uccisa nel centro abitato dell'Aquila e è accaduto in via fermi alla guida del mezzo un giovane che si è fermato chiamando i soccorsi sul posto, una pattuglia della Polizia Municipale e veterinari della ASL per questo fatto accaduto in questi giorni. Solo dopo accurati controlli e indagini eseguiti dal dottor Gianmaria del UOSD fauna selvatica in monitoraggio ambiente della ASL provinciare del capoluogo bruzzese si è accertato che si trattava di un esemplare di lupo. L'animale sarebbe sceso dalla montagna in cerca di cibo. Saranno chiuse entro il 18 novembre le indagini sul disastro dell'hotel Rigopiano di Farindola che il 18 gennaio 2017 fu travolto da una valanga e dove trovarono la morte, lo ricordiamo, 29 persone. Lo hanno lasciato intendere i magistrati titolari dell'inchiesta nell'incontro che si è tenuto ieri pomeriggio al Palazzo di Giustizia di Pescara tra il procuratore capo Massimiliano Serpi, il sostituto Andrea Papalia e i familiari delle vittime. C'è tempo fino al 9 novembre per tentare di acquistare uno dei beni che l'agenzia del demanio ha deciso di vendere in Abruzzo, il miglior offerente. Si tratta di 11 immobili di proprietà dello Stato ritenuti non strategici e ceduti con procedure a evidenza pubblica. A questi se ne aggiungono altri tre che vengono affidati in concessione per i quali la scadenza è fissata il 5 dicembre. In tutto, in Abruzzo, il patrimonio demaniale si compone di 1.399 immobili per un valore di poco più di 940 milioni di euro. I fabbricati ne valgono 744. I terreni in vendita si trovano nel Pescarese e nel Terramano mentre i tre terreni in concessione sono tutti in provincia di Chieti. interessati possono chiamare il numero 085 44 11 039 o ripetiamo 085 44 11 039 oppure il contact center dell'agenzia del demanio il numero è 800 800 023 ripetiamo 800 800 023 o ancora visitare il sito www.agenziadeldemanio.it il meccanismo è quello dell'offerta segreta in busta chiusa. Una decisione che preoccupa per i pesanti riflessi che potrà avere sulla mobilità delle persone ma anche sull'economia abruzzese da sempre legata ai flussi quotidiani con la capitale. Lo dice il presidente di CNA Abruzzo Saraceni a proposito dell'annunciato spostamento dell'area della stazione Tiburtina a quella della Nagnina a Roma per quanto riguarda il termine al bus. Dopo le tante segnalazioni degli operatori turistici al via i lavori di difesa della costa per fronteggiare il fenomeno dell'erosione a Francavilla al mare. Nelle scorse settimane le ultime mareggiate avevano riproposto il problema della difesa della costa francavillese. In una prima fase sul litorale nord vengono apposti i massi per la messa in sicurezza di stabilimenti e abitazioni. Successivamente avverrà la posa dei pannelli operazione che da cronoprogramma dovrebbe iniziare il 28 novembre e durare tre mesi in tempo dunque per la prossima primavera grazie allo sblocco delle procedure del finanziamento di circa 900.000 euro. Lo sport calcio in Serie B nel posticipo dell'undicesima giornata di campionato gol ed emozione all'Adriatico dove il Pescara ha superato il Lecce per 4-2 in un match contrassegnato anche dal grande nervosismo. La formazione ospite ha chiuso la gara in nove uomini per l'espulsione di Calderoni l'espulsione di Calderoni all'ottavo del secondo tempo per doppio giallo ed in Meccariello al 32esimo sempre della ripresa e sempre per doppia munizione. Questa è la successione delle reti al terzo del primo tempo Mancuso per il Pescara poi sempre per il Pescara al 22esimo del primo tempo Gravillon al 47esimo poi quindi in pieno recupero nel primo tempo per il Lecce-Palombi il pareggio al 23esimo del Lecce con Tabanelli nel secondo tempo e poi al 45esimo del secondo tempo la rete di Del Sole autore di una doppietta perché ha segnato anche al 51esimo. Con questa vittoria il Pescara è al comando della classifica con un punto di vantaggio sul Palermo prossimo avversario dei Biancazzurri prima dell'inizio del match momenti di tensione fra le due tifoserie. Oggi martedì 6 novembre nella diocesi di Terra Moatri si celebra la commemorazione dei vescovi presbiteri e diaconi defunti che hanno esercitato il loro ministero in diocesi la direzione la redazione la regia e tutti i collaboratori di Radio Speranza augurano buon anniversario di ordinazione sacerdotale a Don Nino Di Francesco e buon compleanno a Don Bruno Valente. Oggi alle 16 all'auditorium Petruzzi in via delle caserme 22 a Pescara l'inaugurazione dell'anno accademico 2018-2019 dell'Istituto Superiore di Scienze Religiosi e Tognolo dell'Arcidiocesi di Pescara Penne con la prolusione del professore Stefano Zamagni sul tema lo sviluppo umano integrale e un'economia al servizio della comunità. Il meteo dice che oggi su Pescara e Provincia si prevedono sulla costa cielo poco nuvoloso fino alle ore centrali nuvoloso nel primo pomeriggio sereno nel resto del pomeriggio poco nuvoloso nelle prime ore della sera e sereno in tarda serata con temperature da 14 a 18 gradi e 20 deboli e nelle zone interne cielo sereno fino alle ore centrali nuvoloso nel primo pomeriggio e poco nuvoloso nel resto della giornata con temperature da 14 a 18 gradi eventi deboli il mare è previsto quasi calmo era l'ultima notizia per questo nostro radiogiornale a tutti grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica a a a a a Grazie per la visione!